buongiorno benvenuti alla segna stampa di oggi mercoledì 27 settembre intanto un annuncio di servizio non andiamo in onda questa sera con matrix ma domani sera giovedì quindi orfani questa sera di matrix cosa è successo sui giornali vi dico che oggi i giornali sono noiosissimi non avete insomma abbastanza noiosi cerco di trovare due tre cose che possono essere di interesse generale perché per il resto insomma almeno per interesse nostro per il resto c'è poco da divertirsi oggi allora intanto la notizia più bella è che per chi non lo sapesse in arabia saudita le donne non possono guidare le donne non possono guidare non hanno diritto alla guida perché non hanno neanche il diritto scoperto oggi di andare agli stadi non possono entrare negli stadi le donne chissà quante altre cose non possono fare un decreto del re ha stabilito che da giugno le donne potranno guidare però nota soltanto un esule dall'arabia saudita che se ne è andata una donna che proprio era stata arrestata perché aveva guidato in arabia saudita sfidando le leggi dice sì da giugno dell'anno prossimo forse le donne potranno guidare ma in come dice esattamente ma nel rispetto della sharia cosa voglio dire questo sarà da stabilire nei prossimi mesi insomma mi sembra una storia che ci fa capire non che l'islam sia cattivo sia buono però che sia una cosa molto diversa da noi insomma non è possibile e immaginabile che le donne in un paese occidentale possono fare meno di quanto possa fare un uomo questo è diciamo se volete una piccola spigolatura troverete dei piccoli pezzi sui giornali repubblica corriere insomma in tutti i giornali un pochino di questo ne parlano un'altra un'altra non è una spigolatura perché anche se il peso che ne danno i giornali è diverso a seconda che i giornali siano del nord o del sud ad esempio il Corriere della Sera gli dà un grande peso la Repubblica molto meno è l'affare di Seregno il sindaco di Seregno è uno di quelli tosti contro l'immigrazione di Forza Italia del centrodestra è stato pizzicato ad avere secondo gli inquirenti rapporti con le andrine e con un personaggio molto equivoco delle andrine teoricamente eh affiliato eh l'ipotesi è questo all'andrangheta di Seregno adesso cosa possa succedere a Seregno non lo so però che ci sia un'incistatura diciamo mafiosa a Seregno è l'ipotesi della procura che ha arrestato mi sembra 27 persone tra cui anche il sindaco di Seregno che in realtà secondo me ha messo i domiciliari non ha proprio arrestato anche ehm e ha fatto un blitz e cercando di ehm mi spiace ragazzi che ci faccio fatica a sentire io ho il microfono ehm e allora eh il terremoto politico in Lombardia sull'andrangheta non è cosa nuova ma insomma è cosa che eh riguarda eh la DDA di Milano che su questo sta lavorando eh indefessamente vedremo nelle prossime settimane se finirà come nei prossimi mesi purtroppo nei prossimi anni se finirà come mafia capitale cioè non finendo con la mafia ma col soltanto con atteggiamenti come possiamo dire ehm truffaldini anche se vi dico subito che il sapore un po' mafioso della mafia calabrese in alcune zone del milanese si sente ed è forte ehm oggi eh riguardo alla politica ci sono due o tre notizie che vi segnalo la prima è i 526 cambi di casacca che hanno fatto i parlamentari eh in questa legislatura che sta agli sgoccioli cioè sostanzialmente vengono eletti con una lista poi cambiano eh partito poi ritornano alla lista precedente poi vanno nel gruppo misto cioè un so un grandissimo casino anche perché gli elettori ovviamente eleggono le persone non soltanto in funzione della loro personalità ma anche della loro appartenenza ecco cambiare casacca troppo spesso forse un po' tradire il voto elettorale va bene. D'Alema fa un'intervista ad Aldo Cazzullo oggi sul Corriere della Sera e che dice mai alleati col PD. Beh ma da dove arriva D'Alema? È veramente l'impressione D'Alema di essere uno di quelli che quando perde la partita prende il pallone e scappa. Una cosa interessante comunque dice dal suo punto di vista D'Alema che comunque di politica vive e vegeta è che con la prossima legge elettorale visto che sarà molto probabile che non vinca nessuno nel centro-destra nel centro-sinistra che mai Movimento 5 Stelle perché è una legge elettorale fatta sostanzialmente per arginare il Movimento 5 Stelle allora con la nuova legge elettorale dice dovremmo fare quello che raccontava Sartori cioè azionare il motore di riserva e quindi un governo del Presidente. Chi sia il Presidente spero non immagini essere lui ma chissà che sarà questa riserva della Repubblica che ci troveremo ad aprile e a maggio dell'anno prossimo a guidare l'Italia. Che cosa ci abbiamo qua? Oggi a Lione si incontrano Gentiloni, il Presidente francese, sì ci sono un po' di minchiate che ha detto sull'europeismo, il Presidente Macron non ve le sto neanche a dire per il senso, l'eusercito europeo, capite un po' voi che tipo di onirica dichiarazione è questa? Molto più che fincantieri cioè la grande società italiana controllata dallo Stato che fa navi da crociera probabilmente hanno sbloccato l'accordo con i francesi per avere il 51% dei cantieri San Nazar che erano dei coreani e che Macron subito dopo eletto aveva detto che non sarebbero andati agli italiani. In questa sua mossa elettorale forse con il tempo si è smollata, mettiamola così, e oggi forse si potrebbe ottenere l'accordo. Ne parleremo domani. Il volume è al massimo, mi spiace, pa-nda. Ultima cosa riguarda il Fatto Quotidiano, c'è un pezzo molto interessante di Giorgio Meletti oggi sul Fatto Quotidiano che riguarda la quotazione della Pirelli, Pirelli che fa pubblicità su tutti i giornali, sul mio sito, sul giornale, sul fatto, su Repubblica, su tutti i giornali per questa IPO, cioè un'offerta delle azioni a voi, al pubblico dei risparmiatori. Meletti dice attenzione perché ricuoteranno quello che hanno tolto dal mercato solo due anni fa, ma solo con molti più debiti e si interroga sulla forza della Consob e sulla capacità della Consob di controllare. Dice avete fatto un prospetto, cioè sostanzialmente un libretto di istituzioni di 950 pagine che nessuno si leggerà e quindi grida, adesso semplifico un po' alla truffa nella vendita di queste azioni da parte di Marco Tronchetti Provera e dei cinesi che la ricuotano. Va bene? Quindi questo scrive Meletti. Il problema è che due pagine prima sul fatto c'è mezza pagina di pubblicità, come vi dicevo, proprio della Pirelli, che dice comprate le nostre azioni che saranno sul mercato ancora per le prossime 48 ore. Allora, Meletti può scrivere quello che vuole, forse ha anche ragione, io non penso che abbia ragione, perché ci sono molti altri elementi che ho scritti sul giornale che danno invece il senso di quello che è stato fatto in Pirelli, renderla più piccola, più focalizzata soltanto sugli pneumatici di lusso e soprattutto mantenerla in Italia nonostante il capitale per il 45% sarà cinese. Ma è un altro discorso, non voglio entrare in Pirelli, voglio entrare sul nostro mestiere di giornalisti. La pubblicità non deve minimamente influenzare quello che scrivono i giornalisti, si dice, non avviene e quindi è una grande ipocrisia perché poi le pubblicità, gli editori le sentono i giornalisti pure. Ma mi chiedo, se un giornalista dice che stanno vendendo una truffa, stanno vendendo un prodotto avvelenato, quel giornale non può pubblicizzare quel prodotto avvelenato. Questa non è una critica, non so, a un grande marchio, per dire al grande marchio guardate che vi siete comportati mali, cioè non è una critica a tronchetti, è sul prodotto che sta vendendo e quel prodotto è pubblicizzato tre pagine prima. Questa è un po' una contraddizione, anche se è molto difficile fare i fenomeni perché la pubblicità ha un suo peso e noi giornalisti da quella più che dall'edicola siamo pagati. Comunque insomma il fatto si deve mettere un po' d'accordo su se stesso, su questa vicenda. Direi che per oggi è tutto, grazie a Carolina che mi dice del mio articolo oggi sul giornale, come sapete la mia idea è di non citarmi mai, chi vuole se lo legge tra poco lo metterò sul mio sito nicolaporro.it e grazie a tutti quanti voi che mi hanno fatto gli auguri per il compleanno. Un grande abbraccio e noi ci sentiamo domani con la zuppa di porro e quando volete sul sito nicolaporro.it troverete tutti gli articoli e le notizie che ci riguardano delle ultime settimane. Ciao!